Questa volta è l'ultimo, spero vada via per sempre. E non so perché, ma era come un sogno, lo conosco sempre meno. Sono ormai in grado di controllarlo, di reprimerlo. La notte ormai siate stanca la mia finestra, l'ho abbracciata troppe volte. Conosce ormai ogni mio lato, ogni mio inciampo, ogni mia pensiera. Sento che sta arrivando anche oggi, ma adesso il mio respiro è di nuovo puro. Gli uccelli quasi non si sentono, l'acqua scorre senza mettere nessun suono. Non sono io il mostro, ma il buio arriverà presto qua giù. Lo stesso buio che mi ha alimentato, che mi ha nutrito. L'oscurità che tutti evitavano quando mi sentivano arrivare, adesso ha preso una nuova forma. Van Krampus, io sono di nuovo qui. Non senza la difficoltà di districarmi tra le mie emozioni, tra i miei sentimenti. Emotional Damage, il mio 9P, fuori il 12 maggio. Grazie. 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 Grazie.